L'ES, Libere Emitenti Siciliane, l'associazione delle radio e delle tv locali unite per promuovere, progettare, realizzare, informare. L'ES conta circa 80 emittenti siciliane tra radio e tv locali che oggi rappresentano la vera informazione a tutela del cittadino. L'ES, un unico soggetto che si muove autonomamente con lo scopo di supportare un fine comune, la libertà di informazione e la tutela degli associati. L'ES, associazione Libere Emitenti Siciliane, insieme per informare.